E' cardia. E' mia. Parabello. E' mia lì. E' mia lì. E' una polla che si sono. I specie è mia. I cardia è mia. I gioie è mia. Ma non sono i bambini, ma non sono i bambini. E' una cosa che mi ha fatto. E' una cosa che mi ha fatto. Ma non è mai male. C'eri. Due sui 50 anni. E' una cosa che Getty. E' un po' di caratteristica, da non c'è, ma non c'è nessuno. E' un po' di caratteristica, e poi si fa sempre. E' una cosa più importante. E' un po' di caratteristica. E' un po' di caratteristica.